Coach Gerosa, siamo qui per presentare la partita a trasferta di Avellino dopo una grande prova contro Piacenza, adesso c'è un'altra trasferta, poi ci saranno tanti impegni ravvicinati, il turno infrastrutturale con Pesaro, la trasferta di Brindisi, come sta fisicamente la squadra e come avete preparato questa trasferta? La squadra lavora, lavora come sempre, lavora bene, lavora in maniera intensa, è sul pezzo, onestamente siamo focalizzati sostanzialmente sempre su una partita sola, pensiamo sempre una partita alla volta, consapevole del fatto che ogni partita questa stagione soprattutto non è mai molto facile, soprattutto quando si parla di una trasferta, di una scuola trasferta, e che quindi ci siamo preparato per capire, per riuscire ad arrivare ad Avellino e avere lo stesso approccio che abbiamo avuto positivo a Piacenza. Approccio che sarà fondamentale, Avellino è un campo molto caldo, sarà anche un fattore poi dopo il pubblico? Certo, quello sicuramente, come ho detto, tutte le partite quest'anno saranno difficili, soprattutto se uno gioca fuori casa, perché i fattori campi sono sempre molto importanti, come di Avellino è uno dei tanti, è una squadra che comunque, anche fuori casa, gioca la sua parca d'anestro, maggior ragione in casa sua nelle proprie mura. Soprattutto grazie anche alle individualità, ci sono giocatori che sono passati qua a Udina come Mussini, quale pensa possa essere poi la chiave della partita? È chiaro che Musson in questo momento ha grande fiducia, Mussini ha grande fiducia e lo vedi che ha un semaforo verde in tutte le sue iniziative, ecco. Però non possiamo focalizzarsi, non dobbiamo focalizzarsi principalmente su un giocatore, perché è proprio un sistema di gioco che hanno, dove cercano di coinvolgere tutti il più possibile, giocare, muoversi tanto, usare molti blocchi, molto movimento, per cercare di colpire l'errore difensivo sui 24 secondi. In più ci mettiamo chiaramente le individualità di Musson, le individualità di tanti altri giocatori, degli americani, di Lewis, di Harrington. Quindi, insomma, è una partita dove dobbiamo focalizzarci su tanti aspetti e essere focus per 40 minuti su tante cose, su tanti aspetti.